iscriviti a live non tu riserva spazio football il calcio ogni giorno ciao ragazzi buonasera a tutti prima di lanciare il video intervista post gara dei max allegri di vento su roma 1 a 0 vinta da noi sono molto contento volevo augurare a tutti voi iscritti buon anno per domani spero che lo possiate bene senza esagerazioni senza troppe troppe cose strane io lo passo in famiglia e sono contento ovviamente ci sarà anche il lavoro il lavoro offline il lavoro online cercherò di mantenere comunque il sano equilibrio che mi sta consentendo di vivere il quotidiano nel miglior modo possibile un abbraccio a tutti lancio subito il video vi voglio bene perché comunque giocare contro la roma non è mai semplice con gesè ancora più difficile complicato primo tempo abbiamo rischiato un paio di situazioni due o tre palloni che sono passati dentro l'aria messi da dibala però la squadra è stata compatta unita il secondo tempo abbiamo approcciato bene potevamo anche fare il secondo gol però direi che è stata una partita difficile come ci aspettavamo ecco era importante vincere soprattutto perché continuiamo allungare su quelli che sono dietro momentaneamente abbia fatto 43 punti sono tanti manca ancora una partita e poi dopo il 7 vedremo quanti ne saremo riusciti a fare nel giro di andata Andrea Barzagli parti tu ciao Max buonasera ciao Andrea una vittoria direi importantissima sofferta e credo che nella sofferenza poi voi vi esaltate nel senso che tutta la squadra anche chi subentra quando c'è da difendere difende fa fatica e difendere fai fatica veramente mentalmente ma anche fisicamente e io credo che questo è stato il percorso di quest'anno di questi ragazzi anche chi entra secondo me il percorso di tranne quei due tre giocatori quattro fondamentali è il percorso che in settimana magari c'è una competizione leale che tutti possano giocare il sabato la domenica e di conseguenza è una crescita globale della squadra in questo momento stiamo secondo me anche discretamente bene fisicamente abbiamo fatto gli ultimi tre giorni molto bene stasera abbiamo sviluppato anche delle buone geometrie di gioco abbiamo buttato via qualche palla di troppo verso la fine però ci stava e su quello bisogna assolutamente migliorare abbiamo cominciato un pochino più a usare tutto il campo ogni tanto giocavamo troppo negli spazi stretti ma soprattutto bisogna ancora migliorare un po di diagonali di passaggio un po di uscite giuste però la squadra ha fatto bene e soprattutto dopo gol pressi nelle ultime partite vedi frosinoni in modo facile vedi genova in modo facile la squadra è tornata avere paura di prendere gol e quando hai un po più di paura di prendere gol è normale che difendi in modo in modo più giusto dovevi paura andrea di prendere gol sempre sempre questo ti consentirete nella concentrazione io ero così no ci sta ci mancherebbe se dici tu andrea stramaccioni per allegri ciao max buonasera e per me vlauic stasera ha disputato veramente una delle migliori partite di questa stagione giocando e facendo vedere quello che diciamo sa fare con delle potenzialità enormi e ti volevo chiedere secondo te questa diciamo l'abbinamento di vlauic con una seconda punta perché lui le prestazioni migliori spesso le ha fatte con chiesa adesso con ildis che ti che ti cuce il gioco ti viene anche a giocare un pochino più tecnicamente secondo te quando lui resta proprio da nove centrale può essere uno dei motivi della sua come posso dire dove lui può sprigionare la sua fisicità senza proprio una seconda punta accanto o secondo te non c'è connessione nome stasera ha fatto una bella partita come ha fatto le ultime buone stasera in crescendo rispetto alle ultime perché sta meglio fisicamente perché poi stasera l'abbiamo cercato abbastanza potevamo cercarla ancora di più ha giocato anche bene tecnicamente giocatore che può crescere solamente poi può giocare da solo può giocare con una punta vicino già il dice è meno punta di di chiesa il dice è uno che gioca più sulla verticale rispetto a federico che è più un contropiedista su queste robe però direi solo giocando e solo conoscendosi possono solamente che migliorare ma a proposito di vlavic allegri in questa eterna e lunga discussione sui rapporti di forza tra tra voi e l'inter ieri ci sono state le parole non so se la sentite di acerbi noi abbiamo parlato qui studio poco fa la sintetizzo proprio velocemente zero qual è un altro suo giudizio sull'argomento eventualmente la sua risposta a distanza su quello che ha detto ieri i nostri microfoni no non so io non commento le parole di acerbi il giocatore dell'inter in questo momento qui sono davanti a noi di due punti se non sbaglio stanno facendo una stagione importante straordinaria perché hanno fatto 45 punti sono tanti noi cerchiamo di stare lì vicino attaccati e sapendo comunque che per noi è un percorso diverso a quello di loro da quello loro basta vedere la rosa che abbiamo a disposizione come età quindi un percorso che ha iniziato i ragazzi stanno crescendo e siamo soddisfatti di quello che questa inter fra tre giorni apre il mercato di gennaio qual è il tipo di profilo che migliorerebbe la sua rosa in questo momento qui la nostra rosa la possiamo migliorare solamente noi col lavoro come stiamo facendo ci abbiamo a vedere spero più presto e nonge che sta crescendo è normale che va un po raddrizzato però è un giocatore che sa giocare molto bene calcio effettivamente succedere la prima è la juve vince lo scudetto la seco c'è stato un colpo la seconda è allegri inizia di nuovo la stagione sul panchino della juve la terza è la juve torna in champions league quale accade di questo la juve torna al champions league lo scordatevi che oggi è stata una vittoria molto importante l'ho detto prima la partita che ci consentiva di in caso di pareggio di vittoria di mantenere la roma comunque a distanza perché altrimenti la roma sarebbe venuta a nove punti invece con la vittoria l'abbiamo allontanata così come abbiamo allontanato le altre quindi oggi è una vittoria molto importante